Ragazzi oggi giochiamo a Parasocial Parasocial Che è il gioco della Cillas Art In cui c'è uno stalker in teoria Io Ho giocato un gioco della Cillas che si chiamava The Closing Shift Lo potete ancora vedere su Il mio Youtube, è tipo vecchissimo Quel video però Lo potete ancora vedere E Niente Era molto carino Closing Shift Cioè dovevi fare sì, dovevi fare i cillapuccini Dovevi fare i milkshake là con i caffè E poi succedeva una roba ogni volta Quindi Sì, conosco già la Cillas E Aspettative alte Poi non so, ho visto anche già persone che l'hanno già giocato Ed era figo, è piaciuto quindi Cambia lingua perché c'è un bug Bug di cosa Ma stai facendo la poser con Yuno Gazai O l'hai visto Mirai Nicchi? Poser, perché Mirai Nicchi ho guardato il primo episodio Mi ha stufato Ti piace la transizione, lei come è? Me l'ha fatta a Sky Ma mi ha giocato a Saris Missing No Lo devo giocare in inglese? Kunaf, è tu che mi hai detto di cambiare lingua perché c'è un bug Devo giocarlo in inglese? E devo giocare in inglese? Oh no, non ho Devo solo provare a vedere se funzionava La sveglia sta suonando Space W S Enter Cosa vuol dire enter? Beh, non va Oh Aspettate Abbasso un po' la sensibilità Stream cosa? Ah, non ho letto il messaggio, cazzo Ah, Azuka Ah, ma devo Ah, Azuka Ma non va Stars De Nikuyaga Che ho fatto E' nel frigo Quindi riscaldatelo e mangiatelo Ho più di 5.000 subscriber Minchia, più di 5.000 abbonamenti Dai che un giorno anche ero i 5.000 abbonamenti su Twitch Stai ancora giocando così? Devi crescere Ah, dobbiamo venire per la stream Devi crescere, trovare un vero lavoro E, beh, sì Mamma mia, sta cosa me la dicevo Poi i miei genitori Nuovo menù Oddio, Cillass Oddio Ciao Davy Rikia Ricominciamo di nuovo Rikia Bloccato Mangia il Nikuyaga fatto da Azuka Come si chiude? Ok Dobbiamo fare Siamo gli streamers Siamo veramente degli streamers Minchia Io ho vissuto proprio sta cosa nella vita reale Come streamer Ho avuto uno stalker Chi ci proteggerà dalle forze del male? Un po' bruttini questi ambienti E spogli, però Non è lo stesso di Sì, sì, è lo stesso Sono gli stessi sviluppatori di The Closing Shift Che paura Madonna, che piccolo sto Frigo Come mi abba C'è Sapevi che è Resident Evil 4? Ci sono quattro animali Ma cos'è? Perché è così lucido? Mamma mia Questo gioco è un po' troppo lucido È collegato al Cillass Cafe, vero? Fa lo stesso suono del mio microonde Ragazzi È incredibile Oh, no Una Btuber Non sono io Non sono più io No, non sono più io Questa streamer Oh, però come postazione Vabbè, io ho il tappetino rosa Diciamo, non è più rosa Perché è diventato nero Non ce l'ho rosa O non ho la sedia rosa Ho due schermi? Ho due schermi Ho tre luci Una qui Una qui E una qui Poi ho una tv Questo è lo schermo principale Il mio profano è questo Però io l'avrei messo viola Non rosa Sarà gold dragon È diventato nero Che si è sporcato Di trucchi Tutti sopra Stream Facciamo lo stream Lo stream è lo stream Usa il pc Sì Conferno se adesso Manco Sanno che faccia Eh E chiediglielo Infatti Cioè Guarda C'è gente che si fissa Di robe incredibili Guarda Come fanno a essere sensuali Dalle persone che nemmeno vedono Run virtual me Have a game ready It stream Virtual me Che paura Transform Non mi importa quante volte lo guardo Il mio avatar è troppo cute Aia No mi sono ammorsa No mi viene una Nafta Ma porca puttana È cute Volevo fare Ciao Porca puttana Mi sono fatta Mole cane Qui viene Palle Gold dragon Grazie per i due mesi Vabbè Fanculo No io non so fare l'habituber Perché Un'habituber Cioè il modellino Non riesce a esprimere Le mie espressioni facciali No So cute Ho speso bene i miei soldi Senranina È anche un bel nome Senranina Divertiamoci a fare streaming Oggi Andiamo per i 10.000 Abbonati Ma subscriber intende abbonati O follower Subscriber dovrebbe essere gli abbonati Poi hit the game Have a game ready Game Se mi ricordo bene Questo game Non hai salvataggi Ma porca puttana Ma che giochi i giochi Ma gioco le demonate Acamanto Ma Acamanto L'ho già sentito Abbonati Le mie grandi espressioni Sì Acamanto Io l'ho già sentito Acamanto Non è tipo Una specie di demone Ho già sentito Acamanto Acamanto L'ho già sentito Fa schifo E che cazzo Lo giochi in gioco Vabbè Io gioco a Nocturne Stream All right Farò il mio degno meglio oggi Tutto quello che devo fare È portare questi due pezzi di carta Spero di farcela No Vabbè Che palle Giocare Sto giocino di merda No Come faccio a vedere il mio telefono? Ah ancora due Ah ma ero un messaggio in chat Non capivo Tutto come ho messo questo messaggio Ciao Vincent Comunque sono veramente io Anche lei Cioè Anche lei gioca sti giochi Pixelosi Dall'alto Capito Sono proprio io E E Come Ah può pure correre Oh 500 views Quanto sei lontano Ancora due pezzi di carta E Se risponde Rosso Allora Camanto è un È un Demone Vero Corri via Eh bro Sto correndo Cazzo Oh my god Vi sottolineatura Cez dice Com'è finita Con la chi Ho vinto io Ha vinto Lucas Luca Genovese È qui È portali Ah Che scherzo Ah Sono morta Dobbiamo cominciare Dall'inizio Di nuovo No Ma cosa stiamo facendo La Zero Death Run Ma che gioco è Oh no Ragazzi Grande streamer Che comunque Porta delle belle challenge Però Questo gioco Non fa per me Avete altri consigli? C'è qualcosa? Prova questo Horror game only For Sandra Nina Gioco horror solo per Io mi chiamo Ah no Sandra Nina È il mio VTuber Sì a parte Ovviamente Ovviamente In chat Non dovrebbero Mandare link In chat Perché Non si possono Mandare Bisogna Proprio Non renderla Disponibile L'opzione Seconda cosa Uno come dice Il gioco solo per Pixel Kiwi Io non lo apro Però Non cazzo Guardiamo Guardiamo Il piano è di Aggiornare il gioco Ogni stream Spero ti piaccia Ah New game site È un sito che uso sempre Proviamo questo gioco Tipo Itch.io Storking gemma Questo è il mio storco È perso nel gioco È un virus Dalla che schiena Mentre mi dice Tipo Uno spyware Una roba del genere Finito Nuovo gioco Stavate A parte A parte Che non può Mettere in full screen Sto gioco Di Puoi uscire Guarda l'entrata No Però Ah no Aspettate Quattro Quattro è il numero Della morte Cioè il simbolo Che significa anche morte In Giappone Ok Quindi sto gioco Mi sa che questa qui È mica la stanza È la casa del mio stalker Che vive Con l'immondizia Magari vive a Napoli Sto scherzando Ciao Pib Tre Qua Ah no Tre Forse è un codice Tre Quattro Non mi gira bene La visuale Perché non gira Tre Quattro Qua ce n'è uno Tre Quattro Sette Tre Quattro Sette Oh no Me ne serve ancora uno Tre Quattro Sette Perché però Lo tiene in In finestra Il gioco Tre Quattro Sette Avete visto Visto mica Un codice Tre Quattro Sette Non mi fa passare Di là C'è pure La E No la E vuol dire Per interagire Inteso Oh no Sono incastrata Ok Sulla sedia c'è un numero È il sette Ho già visto Il sette Sulla sedia Tre Quattro Sette Forse Qua dentro Controlla L'entrata Come dire Controlla L'entrata Anche Naccia del gioco Dicono Ma che gioco è Ma che gioco è Raga Allora Sette Blu Tre Verde No Tre Giallo Quattro Verde Mi manca Il rosso Mi sa Mi manca Il rosso E non mi fa Guardare in alto Non mi fa Guardare in alto Raga Dov'è l'ultimo Codice Luciano Luciano e banane Cazzo Di follo Che cazzo è Ma dov'è Tre giallo Quattro ore Sette Vole l'ultimo Fanno a caso Dice che devo farlo a caso Però Non mi fa Guardare in alto Raga Mi piace Minchia Oggi fa un caldo Non so raga Non so dov'è l'ultimo codice Chat Aiuto Chat nella chat C'è chat Del gioco Perché uno Ma io non volevo Provarli tutti Che palle Uno Uno Sette C'è un numero Da qualche parte Quattro colori Sì ma chat Non mi aiuta Lo so già Ma dicono il codice Guarda Sti deficienti Sembra facile Da capire Trova i numeri Ma andatene Affanculo Ma vi sembra utile Dire sta cosa Ma dai Cioè veramente Giallo qual è Marameo 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 Perché 5 Dov'era Dov'è il 5 Mio no Mi lamento Della chat Hai guardato Sulla sedia Sì bro Ho già guardato Ma la stai guardando La stream Quel giapponese L'ultimo La stai guardando La stream Deficiente Che quindi L'ho già vista La sedia Di me Dov'è Ah le sliding door Vediamo se è utile Sì Le sliding doors Questa No io voglio vedere Il codice ragazzi Non mi interessa La chat deve aiutarmi La chat qua nel gioco The sliding doors The gap At the back of Eccolo Ma prima non c'era E 5 Ma raga ma prima non c'era No Grazie chat Bravi Oh mi aiutano Non come voi No cherso Mi avete intanto Prima voi Che loro 5 7 3 4 Però non volevo 5 7 Aslovelli Aslovelli dice Senza di noi Non sei nessuno Nemmeno nella chat Della chat Pulito Cosa vuol dire Quei segni Che è successo Lina Stai bene Stars No Aspettate Voglio usare il traduttore No Mi si è tolto il vtube Mi si è tolto il vtube Aspettate Io volevo tradurre Questa scritta Bro Fotocamera In attesa Della prossima distribuzione Vabbè Al prossimo lancio Ok È stato abbastanza No era un gioco di merda Non ci sono i modi in chat Da lei C'è una continuazione Vero Cosa? Cosa significa faccia? Così bianca Ci hanno beccato Sì ma Ma lei non Sì ma lei lo sa Non doveva cliccare su quel link Dai Sì è una cogliona Sconosciuto Continua a stremare i giochi Che ti ho mandato Oltremente Succede una cosa brutta Blocca Chiudi sta roba Ok Questo È brutto La mia faccia È stata esposta Durante la stream Ho avuto anche un messaggio strano Da qualcuno Cosa devo fare Ho paura? Intanto abbassiamo Il volume del gioco Perché Il volume Cos'è il crosshair? Dobbiamo denunciarli Aspetta Aspetta No No Voglio leggere il messaggio Grazie Non va bene Mi dispiace Sono a lavoro E non posso parlare ora Possiamo incontrarci domani Ti sentirò di persona domani Non ci pensare troppo Minchia Ma non è lui Sono i capelli crociati Ma è lui Dai Non ci arrivo Non voglio farti prendere un infarto Dai no Stai zitta Ma dove cazzo vivo? Sul terrazzo? Oh non c'è nessuno Ovviamente Porca puttana Ora che se mi devo Se in questo gioco Mi devo nascondere Io non muoio Te lo dico Chiudi la porta chiave Per favore Ti guardo sempre Cioè guardo sempre Ti supervisiono sempre Cos'è sta musica? Flashback L'ho abbassato Ekyu Non ci sono minacce Antivirus La sveglia Raccogli la spazzatura Jairo069 dice Qui secondo te Dovrei iniziare Ad ascoltare le voci No 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 Non parlo Non ci sono minacce Si vede che il tuo computer Ha messo male Questa roba Antivirus Ma poi l'antivirus Poi la scatola Ma dove l'ha trovato? Ma li vendono Veramente così Con l'amantide Io non mi chiuderei Di un antivirus Con l'amantide Non puoi bloccarmi Ascoltami Cosa Cosa Minchia Proprio con il mio stalker Che continua a crearsi fake Si chiamava Batman Si chiamava Giovanni G Giorno Giovanna Cioè ok Funciono ridere i nomi Però Cioè Sì Diciamo Come persona Inventario Crash Ah è proprio come Cillas Mantide Che schifo Sto bagno Dove è la doccia? Si lo so che Giorno Giovanni E Giorgio Ma dove cazzo vive? Che brutto Sto posto Le scarpe I piedi Wow Ma la grafica è orribile Fratello 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 potrebbe essere Batman Ma quanti bagni ha Ha uno Ok ora Vabbè Utile Spostare i rifiuti In un altro Barile Grazie È messo ultra Ah no Very low Ma perché Very low Cosa è sta roba? Minchia Ma scusami Ma che cambiamento Ma si vedeva una merda Prima Ma pure le luci Si sono aggiustate Oppure si sono spente le luci 40 gradi Minchia Ma stai crepando di caldo No sono Ah Celsius Minchia Fammi nascondere L'armadio What? 40 gradi Il meme Cosa è il meme? Collect the garden of the beans Around the house Quanti ne ha? Ma com'è possibile Che si è aggiustata pure la luce? Ah ecco Ah ecco Che figata Ma questa qui è una doccia Con dentro la vasca Ma che stai dicendo? Ma che figata Che figa Che paura Ma è il sacchetto che vola Piccolino questo sacchettino Comunque un pochino mi somiglia Questa cosa C'è almeno Da piccolo Luca Ho rischettato il codice tutto a posto Nice Luca mi fa piacere Bellissimo Top Grandissimo Luca Goditi il re 4 Se sei ancora in chat No dobbiamo uscire Mettiti le scarpe Scarpiti Mettiti le scarpe Vabbè Ah Mi ma dove vive? Ma come fa a vivere qua sopra? Che paura Ma non ci vivevi mai qua sopra Io avrei paura di cadere Cos'è acqua? Ehi Ah Porca pettana Va bene Cosa stanno facendo Là dentro? No Quello è proprio A fianco Al mio appartamento Secondo me Mi spia Quello là Raga Scarpe magnetiche Mi spia C'è un ascensore Che paura Di chi è questo pacco? Il braccio Cosa è successo al tuo braccio? E vai Ti chiudo Gli chiudo l'ascensore Chiudigilo Ah 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 Ho finito C Pure No Perché in Giappone Queste cose Cioè Da noi mica esiste Scusa Un ascensore Che porta al terrazzo Non c'è E poi Io non ho mai visto Una doccia Grande con dentro La vasca Sinceramente Io non l'ho mai vista E poi qua Ci sono le bevande Scusi Io come esco? Ah Di qua Era il pacco Di yellow fresh È sparito E' sparito Ah Non è che quello lì Mi metto la spazzatura qua Che fai con quelle robe Ma ti rubi l'erba Ma ti rubi le piante Con i cosi per fare Le pinzette Cos'è? Cosa sta facendo? Lo sta tagliando La gente è strana La gente è strana Boh Ok che io sono una vtuber Cioè Io sono la più strana Di tu Quanto è alto Comunque Io sono una nana Brode Ma poi è pelato Questo è lo stalker Dite Oh Oh Brother Tieni Buttalo Che cazzo vuoi da me? Basta Scapperò nel 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 parcheggio Dove tutto buio Sicuramente Non mi seguirà Qua dentro Eh Non ne vado a caso Sto respiro Boh Secondo me ragazzi È un blef Ora il gioco Vuole farci credere Che lui lo stalker Ma in realtà Non è lui Come si esce da qua? No raga Non è Non è lui Non può essere già lui È troppo ovvio Non è troppo ovvio No Mi sta seguendo Ma si è portato via Ma non ha buttato la spazzatura Se l'è portata via Ma poi comunque ho sentito qualcuno In mezzo alle frasche Qua Ti ho visto eh Oppure era l'easter egg Di Silent Hill 2 Volevo solo vederti Ha fatto finta Di buttare la spazzatura Per poterli incontrare Ma è troppo scontato Dai che sia lui Questo lo soglia Nella senta di fianco È bellosamente Harry Townsend Townsend Ma cazzo si apre Sta roba Madonna Gli anni giapponesi Sono migliori Quelli che le faccio Piene di messi sopra Che cazzo è? Azuka Sono quasi qui Andranno l'entrata così Aspetta in casa Non è lei ragazzi No no Non è Può essere lei Magari adesso lei muore Ciao Fabio Ah no Posso accendere le luci? Azuka la bracelet No Azuka quella di Tekken 40 gradi qua dentro Ma lo spegniamo Sto pc è la luce delle cose Se vogliamo sprecare O vogliamo sprecare corrente Aspetta Azuka che arrivi Ma è tutto vuoto Ma cosa ti mangi? In cazzo Sono qui? E lei? Ah è lei Ma lei è la modella dietro Ma di Azuka sei una modella Magari è lei è la storia Sono qui? Ti vedo Stai bene? Hai dormito? Non sembri stare molto bene Parleremo dopo È meglio per noi Per di vedere il sole Ora No gli streamer Non riescono a vedere il sole Non sole È set up rosa Ma dove vengono i cilapuccini? Non ci credo Questo lag è incredibile No rag Che crossover Questo era il posto È proprio uguale È proprio il posto dove Dove c'è la cilas No Come si cazzo? The closing shift Però qua mi lagga un po' Ho fatto così male Con i dettagli Scusatemi Mi chiamiamo in media No È comunque fatto una merda L'allagga di Sì Oddio Hey brother Ma dove ha il tuo naso? Che fine ha fatto il tuo naso? Signore Zà Pam Gli hanno diviso la faccia Potrei andare per Una hot cup of joe Ora Barbone Ma la mia amica dov'è? Esploriamo Voldemort Non mi fa esplorare Cute Lascia stare Creely 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 è quello con i punti in testa Così Vero? Quello lì Il pelato E tagli un po' di caffè E se devo ancora comprarlo? Ma che è sto lag? Mamma mia Permesso Ah ciao Asuka Che fame ragazzi Vediamo le altre persone che mangiano Oh ruba Lo mangi? Questo Un tè E questo signore No in Giappone hanno il cibo Anche in Cilio Anche in The Closing Shift C'era un incappucciato Comunque Uomo incappucciato Assassin's Creed Sono felice di prendere il tuo ordine Hot coffee Oh lo vado a dare al ba Lo vado a dare Oddio ho visto la mia camera laggara Non so perché Lo vado a dare al barbone È tutto Food menu Matcha cake Hai più di ordinare? E tu che vuoi? Sto ancora decidendo il mio ordine Puoi uscire un po' mentre decido? Sì certo Dov'è il mio ordine? Ehi Oh dov'è il mio ordine? Lo vado a dare a quello lì Ciao lupo Non è arrivata la sub Dai Sono stata in vacanza in Giappone Una settimana e ho digiunato Mi spiego C'è una che sta giocando a cosa in Cilio E sta prendendo il tuo ordine Ho fatto venire fame Ehi signore ti do il caffè Ma io volevo dartelo No volevo dargli il caffè Un anno e otto mesi Mi sa che non sei tanto simpatica ad Asuka Brother dov'è il mio ordine? Guarda due FPS Oh che gangster Perché cammina così come gangster qua? Perché poi non è lo specchio Vado in bagno Dov'è il mio ordine? Stronzi Grazie per il supporto Ruba il caffè Wow Che buone Hey Excuse me signorina James Oddio James Sunderland Ma ragazzi ma sto laggando Come no? Perché quando mi giro Sembra che sto laggando? Buon pomeriggio James Sunderland Vorrei chiederti di una domanda veloce E quella persona laggiù il tuo amico Quello col cappucciato Ma quale? Asuka Asuka De sync la webcam Vero che è fuori sync Raga sono fuori sync È vero che è in the sync Eh ve l'ho detto Più o meno Aspettate Finisce il dialogo e aggiusto Non credo sia una brutta cosa Comunque Fai attenzione a chi parli Sto guardando con le persone Che si è seduto laggiù Non Lo trovo sospetto Non importa quanto è sicuro Il Giappone Non tutti stanno bene di testa Quindi abbiamo Non abbassare la guardia È un sentimento Che ci incontriamo di nuovo Boh Fai attenzione Secondo me è il gioco ragazzi Secondo me è colpa del gioco È colpa del gioco Secondo me ragazzi Forse devo lasciarlo in low Perché è tutto fuori sync? Che palle Allora È uguale Ok No ora è ok Ora è ok Ora è ok Boh Non so Forse era Raga Secondo me è colpa del gioco Secondo me è colpa del gioco Che ho ottimizzato troppo male Perché Appena apro il gioco Si rompe tutto Per me è sempre stato ok Vediamo Asakusan Dove sei andato? Non hai finito di insegnarmi Non posso andare senza di te Asakusan C'è ancora molto da imparare Perché Perché Parla a tutti al caffè Per me è il gioco Il gioco è ottimizzato veramente male Non ho parlato con tutti comunque È passato un po' di tempo Come sei stato? È dalla Da quando ci siamo diplomati Alla scuola Come stanno andando le cose? È passato tanto tempo Purtroppo Non potevamo andare allo stesso college Siamo sempre stati insieme Nel nostro Scuola Nel giorno di scuola Il tempo vola Ultimamente sto provando Il mio meglio Per imparare Dai miei Senior A lavoro E invece tu Mayumi? Sei andato bene Sì Sì Sto guardando tutti È il mio collega È carino È molto lavoratore Cioè non so Che sei andato VG Prima James Era Mary Minchia è vero Mary si chiamava No Mayumi Ha detto che gli piacciono Le ragazze magre Che palle No davvero Ma stai mangiando tutto quello Ma fatti i cazzi tuoi Voglio mangiare i dolci Ah Mary è vero Quindi sto vedendo Che stai cercando Di convincere un ragazzo Da davvero piacerti Non proprio Vuole essere la sua donna ideale Allora basta mangiare Ma non è Non è È diverso Non è diverso Ingrasserai Vabbè starò bene Un morso due Non mi faranno ingrassare Sì un morso due Non ti fanno venire le carie È già grassa Non posso sopportare Che diventi aperto grassa Ma che Ma che Che stronza Il mio Oddio Raga ma devo giocarlo in low Veramente Perché è Secondo me è ancora fuori sincro Scusatemi Un attimo Devo vedere Non è fuori sincro Sì Luca Se è un sound alert Io mi vedo fuori sincro Quando mi giro In realtà mi fa laggare Comunque Mi fa laggare Comunque Non so qual è il problema Vabbè se sono Se mi vede pure sincro Con la voce Con la web Come ditemelo Boh Thank you commander Vabbè Senti Hai finito di ordinare Ma io vado a dare le cose al vecchio Fuori Chi ci proteggerà Dalle forze del male Oh la torta verde No Volevo darlo al vecchio Fuori La luce La luce Ma cos'è Ha detto Quella l'altra faccia Si è stata esposta Durante la stream Che è successo Il mio avatar Si è tolto Prima che io Potessi Lo sapessi Come è possibile Hai guardato i virus L'ho fatto Non ho trovato niente Se dici che è così È possibile Che il tuo pc Si è stato hackerato No Si è hackerato proprio di sì È vero La torta ai kiwi È vero Do you need to wear a wig? Yeah Of course I need to wear a wig Because I like it And I always wear it Is that a problem? Avrà cancellato il VOD Ti ricordi quando Hai fatto Cosa hai fatto L'ultimo stream? Ma si che lo so Ho giocato un gioco Che è un vivere Ma perché la luce È così orribile? È quello Figlia di puta Ma Possono essere i tuoi fan Ma non sai Chi sono Alla fine Non puoi aprire Fai la casa Ma a parte E roba Questo dovrebbe Saperlo sempre Non giochi più Col gioco Vero? Voglio fermarmi Ma Ma C'è un problema Ho ricevuto Un messaggio di minaccia Dopo aver finito Lo stream Mentre ti continua A stimare il gioco Vai a denunciarlo Oddio Quello dietro Non mi sta guardando Ma è un soldato Perché mi guarda? Oh 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 Ma che cazzo vuole? Ma che cazzo fa? È terrificante Ignorarlo potrebbe rendere le cose peggiori Se il gioco stesso Sembra ok Potrebbe essere Meglio Continuare a streamarlo Chi farebbe Una cosa che posso dire È che i viewers Sono tutte le persone Che non ha mai incontrato Quindi non c'è possibilità Di sapere Cosa stanno pensando È certo In ogni caso Non dovrebbe essere un problema Solo perché dei fan Hanno visto la tua faccia Vero? Cos'è il peggio Che può accadere? No Guarda quello Sono io Il mio vtuber È il mio vtuber Quello lì Quello sta guardando La mia stream Che creepy Cosa potrebbe accadere? Ma come in che cazzo Potrebbe accadere? Ma cosa Vero? Devo segnare mica di merda La tua casa Ma ecco La tua casa Ha le porte che si autochiudono Quindi la security è buona E lo dice accanto a quello Ma questo No Non pensarci troppo Ciao Nina Ma non ha senso Pensarci troppo Oh comunque Non è detto che Hai Rotto col tuo ragazzo Perché? Scusa se sono insensitiva Insensibile Non stavamo bene insieme Io capisco Vabbè Capita Ci vuol cos'altro Fammi sapere Brother Ma quello mi guarda così Stava guardando così Andiamo Andiamo Cosa c'è che non va? Dietro di te Dietro E bro Se ti giri così Che è successo? Ma vai a cagare Così si è girata No Io non vedo niente Non può spaventarmi Andiamo a casa La posso prendere la casa tua E 3798 Non potrebbero mai scoprirla Questo è un bel posto Per fermarci È stato bello parlare con te Cambiami di nuovo Ok Ci vediamo dopo No brother Ma arriva quello lì Dai Fa il medio delle vtuber Ma non si apre Che paura È lo stesso Sì è lo stesso Io porco Mi fa venire ansia Vedete quello che mi fa ancora più ansia Che questa cosa potrebbe accadere Veramente Cioè Questa cosa potrebbe accadermi Veramente Cioè se mai io un giorno andrò a vivere da sola Potrei chiedermi ora Cos'è sto casino? Cos'è sto casino? Ah lo stream Mica se in Giappone Eh infatti siamo in Italia Che non so cosa sia Probabilmente è peggio Vuole il codice per R4 Vabbò Streamiamo Sono ancora fuori sincro Spero di no Qui il tuo game Transform Game Stream Continuerò il gioco di ieri Ma perché? Bella ragazzi Oggi continuiamo il gioco di ieri Da mille visor Devo aiutare la signora Non forse catturata dalla polizia Non mostrare la tua faccia oggi Ieri hai fatto il face reveal Bella atmosfera Bella host Guarda la signora che scappa dalla polizia Mica che bel gioco Quasi il livello di salva la fila del presidente Stessa trama Chi è questo signore? Io lo seguo Ah è la polizia È la polizia Don't my Sono stupida Non pensavo fosse un poliziotto Quello lì Ma questo è tipo Pac-Man? Ma ora si chiama I love Nina Dov'è I love Nina? Davvero? È vero I love Nina Cazzo È Pac-Man La mia persona che ha mandato il gioco Nina? Minchia Cos'è? È una donna Boh Sembra Una signora Ah bagno delle donne Oh questo non ti toglie da qua Magari devi portarli là Che senso Devo portarli là La porta i salenti Ma cosa vuol dire Devo portarli là? Ah Maybe you bring them there Perché dovrei portare i poliziotti nel bagno delle donne? Diventi veramente di vista le poliziotti Vabbè Non ha gli occhiali Dove sono finiti i poliziotti oltretutto? È tornata all'inizio Eh devo leggere due chat Maybe you bring them here Eh bro Sono spariti Nande Nandi Cos'è vuol dire Nande? Ah eh Non vai Ah Oh venite qua Che paura Qua 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 All'ovnina tra buona Grazie Q9 per i tre mesi Grazie È tornato Ecco sta venendo Sta venendo qua Ma non viene qua Ma cosa vuol dire Devi portarlo qua Ma niente Oh aiuto dalla chat Dalle tutte e due le chat Aiuto Aiuto chat Che cazzo devo fare? Dove andare addosso? 2000 viewers Minchia 2000 viewers Sto gioco del cazzo Vado addosso What? What? Puoi andare dritto Ma vai dritto! Ma non è vero! Ma non vale Provo ad esplorare un po' Maybe you bring them here Tutto il poliziotto non mi fa più niente C'era una leva Devi abbassarla Davvero? Devi abbassare la leva Che succederà? Oh niente Bisogna fare un'abitura Vado anch'io al chillas What? Nina Vado anch'io al chillas What the fuck Mi fa a saperlo? Questo gioco un po' Cioè in realtà rappresenta Sia quanto è brutto Beh Ok Btuber Ma anche Streamer donna Eh Diciamo Uno dei lati negativi E che Ste cose Ste cose Dovrei aver attivato qualcosa Ma non so che cosa Quanto poliziotto non mi cago Arigato 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 cosa? Mi uccide? Ah devo portarla nel bagno Arigato Andiamo Aiuti questa persona Carina Arigato Muoviti Arigato Sembra un fantasma È un po' serio Vabbè Dar Secondo me È più Nice Cioè è molto più facile Che una donna Possa Non so Dovresti pazzi Ci abbiamo fatta Sembra che questa è la fine Di questo stage È una merda Di questo gioco Finita la stream La stream è durata 10 minuti Minchia 2000 viewers E 10 minuti di stream Sono esausta Devo farmi una bagno Secondo me questo ci spia raga Secondo me L'appartamento accanto Quello lì ci spia In qualche modo Devo prima togliermi i vestiti Magari Com'è cazzo What? Ma ho proprio la finestra lì Che pazzo Eh? Oh oh Si è rotta la chiave? Penso di avere un Un cacciavito Da qualche Come cazzo Si è rotto? Si è nascosto Nel mio bagno Sto cercando ovunque E' rotto la chiave E' rotto la chiave E' rotto la chiave Non lo spegne più Chi è? Ah lo spegne sto vincito No 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 riaccendilo ti prego Riaccendilo No volevo sentire qualcosa di carina sottofondo Aspetta 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 No È chiusa vero? No questa ragazza ci spia sicuramente dal ban Era già aperta la finestra Ma ci vado nuda Questa Vabbè Nel caso Ah ok no si erano già pulite veramente No bro Dai mammo No 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 Dov'è lo shampoo? Bagno e spuma Dov'è sta roba? Brother Nooo Attiti Alzati Lo so che si è aperta la porta ragazzi lo vedo anch'io Alzati Si è chiusa Era un'allucinazione Era un'allucinazione? Era un'allucinazione? Era un'allucinazione o si è aperta veramente? Magari anche lei si è un po' Paranoiata eh Chi ci proteggerà dalle forze del male? È sotto dalla corrente, non ci credo Avevo così paura che non ho dormito bene Era un episodio psichico ieri giusto? Non penso Non penso Non credo di avere i sensi spirituali Devo chiedere a qualcuno? Che oma il cazzo da mangiare qua dentro Dov'è il telecomando? Si sono fregati il mio telecomando Eh già Si sono rubati il telecomando No raga Sono entrati per rubarsi il mio telecomando Ma poi cosa mi serve una tv se ho due monitor Cazzo Bubino? Ma che cazzo si apre male sto formadio? Ma che cazzo si apre male sto formadio? Chilla Sredisen Sono Miyamoto il manager del condominio Per favore parla con me Beh mettiti in contatto con me Se ci sono altri problemi Contattaci Si è subito Allora no non so se Allora Cioè io lo chiamerei per dirgli Guarda ti avverto di sto cosa Però poi non vorrei che se lo chiamo poi magari non mi crede la prossima volta che lo chiamo Cioè E' sempre giusto avvertire Il telecomando di sale Cioè non si sa mai Cioè E' lui lo stalker E ma tanto lo chiamiamo Cioè Tanto lo chiamiamo Lo chiamiamo Non so dai Io lo avvertirei raga Cioè io sinceramente se fossi nella vita reale Chiamerei il condominio Cioè quello del condominio Senti è successo sta roba o non mi entrava in casa forse Dai si Non so sabbifinali Sono Miyamoto Il manager dell'appartamento di Chillas Una domanda Aline Scusi ma Risiede nella Chillas Residence Potrebbe dirmi il numero della tua stanza 705 Devi essere Mrs Nina Nina Cosa posso fare per te oggi? Volevo sapere la storia Volevo sapere la storia Ma che cazzo verifica la storia della mia porta Ma dimmi cosa succede Storia? Stai chiedendo se la tua stanza è Stigmatizzata Cosa vuol dire? Che ci sono i fantasmi? Ma non volevo dirgli quello Ma non volevo dirgli quello Ma ovviamente grazie al cazzo che non ci crede Perché lui ha detto che sembra che qualcuno fosse entrato in casa? Ma che cazzo dice? O qualcosa del genere? No, niente del genere Se c'è stato dobbiamo obbligare a notificarlo per prima che ti trasferisce Quindi non c'è bisogno di preoccuparti Se cosa inusuale succede Potrebbe essere la tua immaginazione Vaffanculo In ogni caso probabilmente non ha niente a che fare con gli appartamenti stessi Ma se succede qualcosa Diciamo per esempio dentro uno stalker Possiamo fare una consultazione Se succede qualcosa Contattaci Se mi scusi Se vuole scusarmi Come mai ha parlato solito dello stalker? Forse perché è già successo Oh, dobbiamo fare la stream Beh, magari in Giappone è facile trovare degli stalker, eh? Magari per quello l'ha detto, però... Gioco e stream Devo continuare Bella ragazzi! Oggi continuiamo il gioco di ieri Mandato da una persona sconosciuta E ha ci ha tolto il vtuberone Continuiamo a giocarlo Oh, sì Vedi la tua faccia Non si la faccia oggi? Che falle? Perché chiedono sempre sta cosa? I love Nina Perché la gente deve essere così fastidiosa? Sembra simile a quello di ieri Cosa devo fare? No, non ho capito che devo fare Ah, c'è un po' la polizia Toto Reiko Chi cazzo è Reiko? Non ha gli occhi What? Reiko? L'hai chiamata Reiko? Come fa a sapere chi è Reiko? Quindi tu eri Reiko-san Ma chi è? È il nome del mio amico Cazzo me ne frega Ah, Reiko ha il nome Chi è Reiko? È il nome del mio amico Chi è Reiko? È il nome del mio amico C'è una porta Mi sa... devo avere la... la... la leva La tipa di The Grooge È uguale whoop The Grooge Vabbè, sei The Grooge Cosa fai con la porta? Ah, sì. Si ha trovato la leva E il gioco andrà avanti L'ho abbassato la leva Madonna ragazzi Il chat Lo vedete il gioco Abbiamo giocati tutti Abbiamo giocati tutti The suffering, the query Forbidden siren Lo conosco e in realtà dovrei finirlo Però già un po' l'ho giocato L'ho abbassata la leva Che paura Did you enjoy your bath yesterday? What? Did you enjoy your bath yesterday? E' scritto Nina Ti sei goduta il tuo bagno ieri Vedi lo sapevo che ci guardava Bisogna bannare Nina Raga non sono furi sincro, vero? Ah ma si è bloccata la stream da piccola No? Eh scusate se mi faccio pare ma Io mi vedo furi... Sincro Ti consiglio nocturne Abbassa la leva Sì ho capito Ho capito Chat ho capito Chat lì in giapponese Dove cazzo è Reiko? Sei furi sincro ma di pochissimo Ok allora si nota poco Spero non sia troppo fastidioso Anche perché dà fastidio a me in primi Se mi riguarda la stream e vedo furi sincro Sicuramente Ti consiglio l'Orandy Silent Hill 3 Che palle Sto poliziotto Com'è che ci arrivo di là? Ci sono un mondo di giochi da fare Blair Witch Eh infatti C'è Zekro Ma noi già li stiamo giocando Guarda il mio canale e vedi quello che ho già giocato E' qua Reiko Aiuto Perché hai rigato in questo modo? Ehi Reiko Perché me l'ha detto in questo modo? Sono venuta ad aiutare Reiko thank you Vedete che mi hai rubato il telecomando? Lo sapevo che mi hai rubato il telecomando La mia tv si è accesa Ma si perché si mi ha rubato il telecomando C'è il poliziotto Eh se Ragazzi io lo sapevo che mi hai rubato il telecomando Quello stronzo Aiuto Hai Hai acceso la tv Era un'esplosione Ciao Reiko Chi è che ha fame? E' il tempo perfetto Quindi finiamo per oggi Tornerò domani Vendevo Bella ragazzi Lasciate un mi piace e un commento Ho fame Morirò Non c'è niente nel frigo No non c'è niente nel frigo Non c'è un cazzo nel frigo A meno che lui Telecomando Era qui Guardate la luce Che merda Ovviamente Che devo fare? No E ragazzi io al negozio vicino non ci vado Perché se esco quello mi entro in casa A parte me poi sarà già in casa Where it's Uber Oddio posso scegliere? No Vabbè Ho ordinato Ho ordinato? Oddio dei fiori Non mi voglio i fiori Perché non mi dai i fiori? Bro E' un attimo No io non mi vedo fuori sempre Ehi Mo questa è la cena E' Uber E' Uber Oddio Ah è proprio lui Uber it's delivery Il tuo ordine è Takoyaki Oddio quale ti dora dori Takoyaki Erano quelli No 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 Non erano i takoyaki Che cazzo ordine? Io non so almeno cosa ho ordinato No Erano i takoyaki Sushi Mia scusa Era la pizza No 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 Aspetta Segui la VTuber che hai avuto Se hai mostrato la faccia E' vero Oggi è un bel giorno Supporto da tanto tempo Continua così E l'ordine? Sono così vide di averci incontrato Ah E' una buona idea aprire la porta senza una No Fai attenzione C'era una mano Ma veramente Non mi ha portato il cibo Lo stronzo Ma non vale che devo andare per forza allo store Un nager che trova molto entrati Avviso se ne va Ah E' allo stalker E mi sa che è entrato per vedere Guarda Non hai la catena per entrare Cioè Bro mi hai aperto Così Dio porco Dio porco Dio porco Dio Sei signorina Nina Vero? Chi? Sono Miyamoto Nel tuo condomino L'amministratore Excuse me Ma vivi da solo? E' pericoloso per una ragazza vivere da sola E' un ragazzo? Non ce l'ho Al momento Sento un presentimento che tu eri con qualcuno recentemente Che spreco Perché mi siete la Ma ti vedi i casi tuoi? Una brutta persona Era davvero Brutta motivazione Oh Perdonami Sono fastidiosa Vero? Eh si Sono il manager Se qualcosa succede Fammi sapere Cioè Sai chi chiamare Due stalker Questa è L'ovelina Chi? Chi è Oshinoko? Ma cazzo funziona Un'ottocensore 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 Di alla manager Che vuoi una catena In effetti Ma poi esco al buio Ma dai Ma non puoi prendertelo Prima il cibo E' tipo Le vecchiezze Sono i vecchiezze Degli altri Magari sono due complici E' un anime Con il primo E' più simile Da questa esperienza Davvero? Minchia Con lo stalker That's creepy That's weird Mi cammino in mezzo Alla strada Proprio Non ci interessa Non ci sono ma Ah no Ok Non possiamo No Ma si ferma Qui Guardalo Passa Ah che figata Oh Vabbè brother Ti sei fermato Mezz'ora prima Ciao Sapete che nel primo 4 Ci sono 4 animali Nascosti Pimpu 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 Ciao Ma tutto così luminoso Brutto Che si Come si comprano le cose Alcol Come si posano le cose Questa è Questa è Aloe Buono Oh mio dio Che paura Ma questo è un gigante Gigante royale Non riesco a prendere una bibita Eh minchia Perché c'è un gigante qua Signora You know what else is weird Brother Ma è André the giant Big show Ma come si comprano le cose Io voglio Essere amica di questa persona Sicuramente lei ci difende Dallo stalk Ah fine Ti togli Ehi bro Voglio essere tua amica Ehi per favore Ciao Io voglio comprare Come si compra In questo negozio È shiny E non so perché è così luminoso Come si comprano le cose Devo solo cliccarci forse Si paga all'uscita No non ci credo Non ci credo Non ci credo I Mikado Ehi che buoni Quelli lì Questi ragazzi sono buoni Questi di rosa So chi Oh porca puttana Eh no Li ho visti prima io Come Mikado Togli li dai coglioni Oh mio dio Mi piacciono tantissimo Queste patatine No che buone Queste alpiccanti Magari me ne compro Gelato Ne voglio Oh vorrei proprio Del gelato Dov'è il gelato Il freezer Non c'è cascato Dov'è il gelato Ecco Sarà andato Quello lì Sarà andato No mi sta guardando Dalla fuori Guardatelo Mi sta guardando Da fuori Questo è gelato Mmm Sono patatine Al dick Sì sono buonissimi Mi credo Dopo aver mangiato Lai il gelato Vado a prendere Qualcosa di Salato E patatina Queste piccanti Sì 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 Guardalo 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 Un'ultima cosa Cos'è che è bello What's look good Io direi I mikado I tarocchi Perché si chiamano sticks Vieni Che bella cena Eh ragazzi Patatine Mikado Gelato Proprio una cena Quella ancora lì No no Se n'è andato Se n'è andato In casa mia Peggio di me Che vuoi E' passato un po' di tempo Rikia Che cazzo è Rikia Per farlo non correre Ma chi è Devo dirti Una cosa di importante Ah è il mio ragazzo L'ex Giusto Mi stai bloccando Vero Ecco perché sono andato A parlarti Direttamente Tu amico Si sta comportando In modo sospetto Amico o amico No Non voglio sentirlo Non di Non dire così Ascoltami Ehi Che sta facendo Ho una prova Mandami un messaggio Vabbè Si è tutto storto Eh bro Non so cosa Ehi Ma cosa è successo Ma cosa è successo Ma cosa è successo Ma cosa è successo Raga come faccio Vabbè Vabbè non va Il come se te l'ha asfaltato Ti mando un messaggio Il Rikia Eh non Come faccio Eh non Come faccio Boh Quando torno a casa Se ci torno a casa Eh bro Dai che verde Bambu 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 Eh Allora Rikia Possiamo parlarne O mi investe qualcuno Ma questo è Rikia Un altro Guarda che passa la macchina Poglione Questo è lo stalk Quindi sono Rikia Eh ma vai nel vicolo Veramente Non va nel vicolo Posso far correre addosso Io non mi giro Quindi ci sono Rikia E lo stalk Ma sono uguali Guarda per il follow Oronzo Se non è uguale No non mi giro Chiudi Chiudi Chiudila Sì gira L'attenzione del canamano Squid Game Ah cazzo Ciao Non ti ho visto Ma i miei occhi bianchi Agli occhi bianchi Ho rinnovato la sub Fai Ricarica la pagina Fai condividi Salvatore Grazie mille Così ti esce l'alert No 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 Guardač che Bro, chiudi, ti prego. Minchia, che merda. Stanno andando a seguire. Ho paura, ha trovato la mia casa. Che devo fare? Non parlare a Asuka. Secondo me Asuka è una baltracca. No, raga, Asuka... Mi nascondo. Oh, scrive la tua chat. No, mi ha aperto la finestra. Mamma. Mamma. Sei a casa? Hai chiuso le porte? Sì, autolock. Voglio chiamare la polizia. Devo provocare la ragazza così è faricolosa. Alla stessa cosa ho fatto io. Vabbè. Non va, Salvatore. Vabbè, sembra si preoccupa in realtà la mia amica. Non sto traducendo tutto perché è lungo, è velocissimo. Grazie, Salvatore. Però non è scialale. Guarda l'altra chat. Quale chat? Cosa? Tutta mia. Non ho letti tutti. Perché non va su? Ah, ecco. Sei sicura di fidarti tutto quello che dicono i tuoi amici? Perché non ti fidi quello che ha detto il tuo ex? È ok ignorarlo? Ci sono altre persone di cui puoi fidarti, è ok? Di rely su una persona sola. Se fossi io, avrei più alleati. Beh, stai bene da sola perché non importa quello che fai, sei tutto mio. Schifoso. Devo sbloccare Rikia. Ci sono i fuochi fuori. Non so. Ma in base a che cosa ci fidiamo dell'ex e dell'amica? Cioè l'amica non si è però tanto preoccupata, magari nemmeno lei capisce la gravità della situazione. Il mio ex l'abbiamo lasciato, ha detto abbiamo lasciato perché è successa una roba grave. Grazie, Salvatore. Grazie, bravissima, ce l'hai fatta. Grazie per l'aiuto di me, Salvatore. Grazie mille, bentornato. Effettivamente cosa puoi fare col telefono di Rikia? Mi chiama? Cioè, poi lo blocco di nuovo al massimo, capito? Magari mi può aiutare contro lo stalker. Ma che me ne frega che è il mio ex? Magari mi aiuta. Io lo sblocco. Sì. Non mi scrive a 3 miliardi di messaggi. Cosa significa il mio amico è sospetto? Stai parlando di Asuka? Può tracciare? Ma sa dove abita il mio ex? Mi è sbloccato. Grazie. Asuka Zero-san. La tua faccia si è esposta davanti a una stream, vero? Come lo sai? Stavo guardando la senda a Nina stream. Eh? Ma anche se non hai visto la stream, la storia si è esparso ovunque. E quindi l'ho scoperto. Si è stata hackerata? Non so, ho avuto l'antipirio se non era ok. Vabbè. Cosa ha a che fare con Asuka? Asuka ha qualcosa a che fare con questa cosa. Guarda. Take a look at this. It's forest. Parlava con lui. Cos'è? È invidiosa. L'ho vista parlare con un ragazzo sospetto oggi. Non voglio crederci. Non ci credo che la tua miglia nemica è. Ma se vede qualcosa del genere. Asuka è l'unica che può entrare nella tua casa. Vero. Oh cazzo È vero Ciao Dalla, ciao Luca Grazie di Luca Effettivamente è vero Cioè come Il fatto è Come faceva entrare in casa quello lì? Perché gli ha dato la mia amica Vincita che è migliore amica di merda Guarda Sempre collegato a me Anch'io ho avuto una migliore amica di merda Holy shit Oh porca Asuka Impossibile Ma quella foto Non ho scelta Beh quella foto non è che magari l'ha photoshoppata Grazie Lily Devo bloccarla Vabbè ma non è che se la blocco finisce il caso Chiama la polizia La blocco Così non finita no? Se la blocco non può più entrare in casa mia capito? Ma che cazzo Devo bloccarla? Ma non c'è Rikia Capisco Ho blocco Ma perché la blocco? Ma che cazzo Ma potevi anche non bloccarla? Oh no il mio vtuber Se fosse un bel life di Rikia Un buon messaggio So pitiful Cosa vuol dire pitiful? Così penoso? Senera Nina Abbandonata dal tuo migliore amico Dal tuo migliore amico Per sempre sola Come me Sono qui da sola Che vivo nell'oscurità Vedi siamo uguali Nessuno verrà A salvarti Non siamo Non possiamo farlo Non possiamo stare con un altro umano Cosa? Cosa? No beh Questo mi hanno hackerato Ok Questo c'è nel senso Hanno hackerato il mio vtuber Mi hanno fatto saltare la corrente Ma sta camminando in casa mia? O sta battendo alla porta? Come si fa a chiamare? Come si fa a chiamare? Stanno battendo alla porta Dite Stanno bussando? Cazzo Non usci Io non voglio uscire Allora Ho lo stalker O è Asuka O il mio ex Raga Devo andare a prendere per forza Sennò che devo fare? Io non mi fio dall'ex Ti metto conto La tua mia amica Ma io non so Perché si sono lasciati Cioè quello che sappiamo È che Cioè non erano compatibili Però nel senso Deve Può essere Ma deve uscire Ragazzi Non posso fare nient'altro Non è che posso scegliere Devo per forza andare Ma è dalla finestra Siamo all'ottavo piano No to be'a Ma è di qua È in bagno Non mi fa vedere Dello spioncino raga No Sta battendo alla finestra Che falle Non voglio Non voglio il jumpscare Sono io Perché sono pixel C'è una porta qua Ovvio che era lui Ma chiudi È ovvio che era lui Ma sta porta E' un cazzo E' vero Ho il telefono con una chat aperta Quello è vero No ma dite che è l'ex No è veramente Secondo me non è l'ex Vabbè raga è entrato È laggiù è entrato No è finita Vabbè Gli vado in con E vabbè Allora Dai no Mi ha fatto proprio un badendi Broder Uccidili Come uccidili Chi è l'animia Nia nia Uccidili Che cazzo vuol dire Uccidili L'abbè catturato come poliziotti Ma che devo E dov'è il cacciavite Ma io non so dov'è il cacciavite Raga Nella chat di Twitch Sì però nia nia Uccidili Uccidili L'ho spaventato prima io Sì No raga ma non so dov'è il Il quadrillo qua Ma mi dà il Il cacciavite nel frigo E io volevo andare nell'armadio Secondo me era lì il cacciavite Oppure l'ho lasciato nel bagno Mi sa che è nel bagno No Ma dov'è l'accendere Il cacciavite Dove Dove l'ho lasciato Corri subito nell'armadio Ma non ci ho provato Ma ho preso subito No non mi può scappare Vedete vedete No ma non mi può fare Mi chiudo in bagno Forse qua Mi chiudo la doccia Non ci troverà mai ragazzi Sei riesuscitato Ah sì Oh raga non ci vedrà mai qua dentro Sei morta Non so dove altro andare Uccidili Ma come li uccido Non direi cagate No non è lo Slenderman È un Indior Dov'è il cacciavite? Non c'erano cacciavite da qualche parte Non Sì sì Non so dove Sono il killer Guarda che ti vedo Devi Devi Cioè Accontellarlo col cacciavite Eh ma dov'è il cacciavite? Voglio incontrarti È entrato Nino In quella porta Non mi fa andare lì Buona fortuna Non so come uscire Raga Muori muori Ma per loro è un gioco Paura Ma è così Dov'è? Dov'è se non si vede il giro che fa Ah perché Lololololol Ah perché dite che devo Stealth Tipo Oh caro C'ha visto È un ottimo nascondiglio Vedete Come fanno Se proprio gira torso di bed Ma io devo aspettare Che lui va È laggiù Ma perché entra qua? Non so se sto qua mi vede Ma come faccio a passare? Marameo 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 Ma io mi sa che io non devo stare qua dentro Se li vado dietro Devo prenderlo da dietro Devo prenderlo da dietro So che micchiazzo Figlio di troia Ma Muore Ora era Alex Ma non muore così Dove siamo? Oh E mo? Che paura No 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 Vedi era lei Era lei La migliore amica di merda Vabbè, non potevo salvarmi Era un sogno Un sogno Grazie a Dio Era pauroso Ho dormito tanto ma mi sento però stanca Vabbè, devo andare dalla polizia È già pomeriggio Volevo stare svegliata tutta la mattina Devo andare a consult A consultare Riguardante lo stalker Devo andare prima che fa troppo buio Sono stanca Ma allora, era un sogno premonitore Magari era un sogno premonitore, raga Potrebbe Nel senso Perché in realtà i sogni funzionano Perché se tu pensi troppo a una cosa Poi la sogni, ok Cioè nel senso Se tu sei convinto che magari La tua migliore amica è l'assassino Tu sogni che la tua amica è l'assassino, ok Deadly premonition Però Non so Io secondo me È la migliore amica C'entra qualcosa Non so perché Una sensazione Non so dirvi esattamente il perché Ma è più una sensazione Un sogno premonitore Non so ne ho dato l'altro Poi era noi Eh, esatto Facciamo la denuncia Verrà diffamato e denunciato Lo stalker Controlla le chat Che è successo? Ah, ma è ancora bloccato Non è possibile che è ancora bloccato lui È benicoso È bloccato Era un sogno anche il fatto di sbloccarlo Non crashare Polizia Ha gli occhi rossi Ehi C'è qualcosa che non va? Something that matters Volevo chiedere Guarda qualcosa Ok Andiamo da qualche parte Dove possiamo parlare Quindi No, aspetta Quindi Ma lui Non è il rider Tipo Con gli occhi arancioni Più o meno No Andiamo alla police box No, no Ti sentirei molto più nervosa Parlando alla stazione Vero? Abbiamo persone del genere spesso Andiamo in un posto vicino Al parco No, ma perché andiamo nel parco A parlare col poliziotto? Ma poi tanto Faccio una cosa Dice no Facciamo un'altra Allora perché mi fai scegliere? Capisco Che è l'ox Gioca A Obscure Il vecchietto del negozio E il postino Potrebbe essere stata hackerata E sta venendo stalkerizzata Un hacker E uno stalker Sono veramente la stessa persona O forse no Forse l'hacker è la migliore amica E lo stalker No raga Ma se sono tutti e due Se sono sia la migliore amica Che il L'ex C'è su pc Sì su steam C'è tipo L'hacker fa la ragazza E poi lo stalker L'ex Il tipo incappucciato Boh Ma fortunatamente Senza una prova Non c'è molto Che possiamo fare Come non c'è una prova Ma ci sono gli screen Ragazzi Starebbe una cazzata Cioè nel senso A me Vabbè Oltre alla prova fisica La testimonianza Ho dovuto mandare Ho dovuto stampare Tipo 50 fogli Di screen Con tutti gli account Che mi aveva scritto Il mio stalker Tutti stampati Non è che dici Che li faccio vedere Sul telefono No devi stamparli tutti Quindi sono spreca Di carta incredibile E quindi Cioè noi le abbiamo Le prove in realtà Cioè mi ha scritto Un numero sconosciuto Mi ha chiamato forse Poi mi ha hackerato Cioè Parla con me direttamente Ci metterei troppo A chiamare A chiamare la polizia Sono sempre vicino Alla stazione di polizia Dovrei stare Mi ha chiamato Di essere lì subito Ti do il mio numero Di telefono Dammi una chiamata Farò molta più attenzione Quando Boh Faccio la guardia Qui in giro Quindi non aver paura Buona fortuna Con il tuo lavoro Tipo per te E infatti Mi sembra un po' strano Su polizio Cioè Allora Quello che posso dirvi È che effettivamente No Allora Non ho avuto il numero Di un poliziotto Io Cioè Quando ho avuto Lo stalker Io Ho avuto il numero Di una guardia Del Della sicurezza Del Del games week Del torino comics Ma del poliziotto No Quindi non lo so Non so se effettivamente Un poliziotto Può darti Il numero di telefono Così Il poliziotto Sempre male Quando dico La prossima volta Chiamami subito Troppo tardi Noi fatti È davvero ok Sono un po' Faventata Paura Che devo fare Devo suonare indietro Questo è già dentro Ma di chi è sta casa Questa non è casa mia Ho ancora paura Bisogna chiamare Asuka Sì dai Facciamo la faccia Da culo Dai Sono sicuro Ti voglio contattare Nel senso Cioè io voglio Contattarla così Cioè Ma non sappiamo Allora Abbiamo avuto Un sogno Per il monitore Ma magari può dirci qualcosa Anche come prova No E ci dice Boh Vengo a casa tua Diciamo No Non so Perché dipende Come se ci può fare Il gioco Direi Io la chiamerei Raga Anche per dirle Ho paura Eh Lo skin della chat Dell'Extra Tutto un sogno Infatti vorrei contattarla Dai Facciamo la faccia Da culo In ogni caso Non importa Ma sì L'ho bloccata Era bloccata Sorry So che ti ho Se ti ho bloccato Sorry Tu hai bloccato Non so Che sfidarlo In questi giorni So che sono Egoista Ma poi veni Ma no Ma no Ma non volevo Intendere di venire a casa Ho paura Ti voglio al mio fianco È tempo che io inizi A stremmare Però Ma non volevo dire Di venire a casa Lo so Mentre dire Boh È chiuso Non ti preoccupare Sono uscita dal lavoro Presto oggi Sono vicina Sarò lì Vedo la chat dell'ex Eh porca puttana È arrivata la Baldrack 20 minuti dopo E infatti Non ho capito Nemmeno io C'è L'ho bloccata Perché il tuo Soprattutto che non è Affidabile Però lui non è bloccato Perché Perché sono nel bagno Aspetta un attimo Per favore Io voglio prendere un attimo Il cacciavito Prima quella porta Perché tanto Se c'è uno stalk La massimo Uccide lei Dai Se sono complici Io niente Niente Che ci posso fare Almeno non sono Solo in casa Poruca da clown Non so se riesco A mettermela Però proviamo È il cacciavite No Non so dov'è Ho visto nell'armadio Ma non l'ho trovato Ha un coltello Non aprire Non è un coltello Che zitto Sono felice Di essere venuta subito Stai bene? Sei stata Stalcarata di nuovo? No Mi sento Stano Capisco Hai parlato alla polizia? Sì Spero facciano qualcosa Lo spero anch'io Mi spiace di averti bloccata Non devi preoccuparti Capisco che le cose Sono difficili Ma sono felice Che ti fidi ancora di me Mi ha fatto vedere Una foto con te Con un uomo Una foto con un uomo Oh Stai parlando del Del Il tempo Che uno strano uomo Mi ha parlato? Sapevo qualcosa Non andava Quindi lui era lo stalker Yikes È venuto da me Da Out of nowhere Era Randy Orto Ed era Era lui Quello che si è avvicinato a me Ma ha detto niente Quando ho provato ad andare A me ne Mi ha fermato E non diceva una singola parola Magari pensavo Che si era perso qualcosa Quindi ho aspettato Ma niente E poi Se l'ha andato via Non so che era Randy Orto Erky Yo Out of nowhere Quindi qualcuno ha fatto Delle foto Grazie Elle Grazie per l'avvenimento Buon buba Grazie mille Elle Scusami se sei sospettato di te Va bene Non ti preoccupare Chiunque può essere scettico Se Boh Vedi una roba del genere Quindi Che dovrei fare Vuoi che io stia qui Sì Ok Voglio che tu poti rimedi una pausa Ma non è possibile Dovresti considerare di trasferirti Brother Non vuole Ma io vorrei aprire sta porta L'ex torna sospetto Ma perché Stream Vabbè ragazzi Se stream Uccide Non uccide lei Non uccide me O me Entrame Però me lo uccide prima lei Ciao Nico Grazie per il follow Bro Guardate la tv Ah no Scalda Ho perso il telecomando Me l'hanno rubato Scusami Lo sol che era venuto Mi ha rubato il telecomando Eh È già Ma queste sono le strisce pedonali Della mia città Bella ragazzi Continuiamo il gioco di ieri Cosa giochi oggi? Non ho brutto tempo Ho guardato il frigo Ma non c'è niente da mangiare Ti prendo qualcosa al No Al negozio No No Voglio che tu rimani qui Sarò ok È molto vicino No Ti prego Arrivo in un giffi No Ma sei una fott... Dracca Perché Questo Vedete che adesso Questo qui viene a casa mia Guardate che adesso Il gioco Fa la strada per venire a casa mia Sicuramente Guarda Queste sono le strisce pedonali No No Guardali Guarda Lo sapevo Ingrasserai se mangi solo con bini Food Che cazzo tu vuoi? Ma non puoi mai scegliere A me sembra che non puoi fare le scelte Tutti sti lavori in corso qua? Che più? Aspetta Non dirmi Questo posto Certo Che cazzo mia Forse conosce il posto Eh questo è il mio appartamento Nina stai bene? Dove stai andando? Noi incontriamo quella lì? Magari non piace D'aprile Puoi andare al negozio E ormai Nina non mi hai giocato No raga Non devo andare a casa mia Per forza Cioè immagino Ma perché lei se n'è andata? Ma è la porta No la porta aperta Ma dai E' stata lei E' aperta Chi l'ha aperta? La migliore amica Se n'è andata E ha lasciato la porta No Non ci credo Non mi fa girare No dai No Non ci credo Che figlia di troia E' un horror? Stai bene? L'assenza è grande Mi sento male Quindi fino allo stream Presto Scusatemi No l'ho aperto io ragazzi Scusate Vedi mi registrava Mentre facevo il bagno Quando dormivo E' terrificante Guarda Che puttana Ragazzi Ma che ansia Ma perché quella lì Se n'è andata Ragazzi Ero lei Devo Devo contattare La polizia Cazzo Minchia raga Che cazzo Allora Asuka no No raga Asuka il cazzo Quella se n'è andata Allora A meno che Non lo so Ho le prove per il polizio Allora Le prove per il poliziotto Ci fidiamo del poliziotto Io ho chiamerei Lex Anche perché Lex ci ha detto Che la Cioè Allora Non so se un bait Ci vuole far credere Che la 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 ragazza Cioè la raga Asuka No Sia lei Ma in realtà Non è lei Non so raga La polizia Io direi di no raga Perché il poliziotto Non mi fidavo Perché abbiamo parlato Al parco Non ha senso Non è una cosa Di cui parli al parco Capito Non puoi parlare Di un Di una Di un Di un Di un Di un Di un Di un parco Non ha proprio senso Non può Grazie 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 per la donazione Francesco Insomma Mi è arrivata Mi è arrivata la donazione Grazie Sì è molto carino Però la trama Grazie mille Per la donazione Grazie mille La manager ti chiama Con il nome Da streamer Ciao Giovanni Allora raga Io Asuka no Giovanni allegorico Ah Scusa Mi è arrivata La donazione È parata un Francesco Allora ragazzi Giovanni No solo io L'ho visto Scusami Giovanni Spero Non ti Tanto no Ovviamente Non ho detto Il tuo cognome Grazie No perché Non lo vedevo Da lì Grazie anche Per il follow Su youtube Raga Non so Che cazzo Scegliere Per me Se chiami Asuka E Rikia Ti squilla Il cellulio Colare Dello stalker Raga Io non mi fido Della polizia Cioè ripeto Allora Della polizia Non mi fido Ok che dice Che viene in fretta Ma quello lì Perché abbiamo parlato In un parco Rikia Ok L'ex Però Almeno Una persona Che conosciamo E ci ha detto Anche della C'è Ci ha detto Che però Ha fatto la foto All'Asuka E quel ragazzo Là che non parlava Ha detto Che si era approcciato Un ragazzo Ad Asuka Però lei Mo' è uscita Ha lasciato La porta aperta Cioè Asuka Non No E poi Il manager Il manager Che cazzo fa Il manager Non fa niente Secondo me Proprio chiamarlo E anche Anche Non fa un cazzo Il manager Quindi non lo so Io dire Chiamiamo Rikia Facciamo badem L'ex Si è vero Si esatto L'ex Tipo Non lo chiameresti Mai Però ho capito Almeno È una persona Che in teoria Lei conoscevano Mi fido di Rikia Perché ha dato La scelta Di sblocarlo Meno Quindi il gioco Poteva anche Non darti Quelle informazioni Che è vero Quello è vero Non ti fidare Delle Raga Non possiamo fidarci Di altre persone Cioè La polizia Se non fosse Il politotto Che abbiamo parlato Prima Aveva chiamato Subito La polizia Raga Cioè Però quel polizotto Lì È troppo sospetto Cazzo Rikia Secondo me Rikia Ti prego Vieni subito A casa Così ci rimettiamo Insieme Non ti sospetti Però Perché quello Che è streamato Era un gioco Visto che Quando si è girato Non c'era nulla Se tutte Rikia è già In casa E non è Rikia Lo stalker Raga In effetti C'è anche detto Di scegliere Se sbloccarlo O no Esatto Cioè Azuka Ha troppo timing Cioè Magari È pure Una coincidenza Però Cioè Minchia Perfetta Proprio Ok Raga Dai Fanculo Rikia Non voglio fare Il brutto Ending Però Ti prego Rikia Mi ha manipolato Alex Eh vabbè Facciamoci manipolare Ancora Ciao Nina Rikia Sono in pericolo Puoi venire A casa mia Non sono sicura Di quello che sta succedendo Ma Se hai bisogno di me Arrivo subito Dai Sono qua vicino Sarò subito lì Sono felice Che tu ti puoi fidare di me Ti proteggerò Non importa Che devo fare Devo nascondermi È la doccia Ragazzi È la doccia Perché la doccia Abbiamo visto che era Top Come la sconniglia Sconosciuto Ti è piaciuto il gioco Voglio vederti Possiamo incontrarci oggi Allora Ci vediamo Arrivo ora Sei pronto Ti do un minoso Raga Non ci troverà mai qua Che devo fare Devo nascondermi Prima che arrivi Ma qui non ci puoi trovare Ragazzi Non ci hai visto prima Adesso se ci vede Dai uno sca Che fa un culo Che fa un culo Il cacciavite Eh ormai Eh mi sa che il cacciavite Devo prenderlo Devo proteggermi Cosa dovrei fare Cosa dovrei fare Ma non c'è più Un minuto Un minuto Porca puttana Dov'è il cacciavite 30 secondi Porca puttana Dov'è il cacciavite Dov'è il cacciavite Ciao moronino Oddio Un coltello Un macete Brodercelo Un coltello 3 2 1 Si dai Dai ragazzi Sono nella doccia Che non mi troverà mai Un coltello Un macete Il coltello cadevi nel sogno Ah è quello con cui Mi ha ucciso Abbiamo un macete Dai Spallina Beh io sto nascosta Devo aspettare che arriva l'ex Di aprire i messaggi Oh no La batteria scarica Eh deve arrivare l'ex La save room Ma non vale Pensavo che potessero scappare Un posto così piccolo Tenendo un'arma così È inutile Non è un gioco Cosa è Sono morta È un sogno Non ci credo Ma dove cazzo è Sì Sì È arrivato Sì Sì Non ci credo Sì Ci ha salvato No Sono felice che richiede Non ci credo La polizia che è costata con me Mi ha infortunato che lo scolto è stato catturato Quell'uomo era un fan di Senderanina Vedeva le messerie tutti i giorni Mi ha detto Mi ha detto Mi hanno detto che ha cominciato a Ah Pensava che fossi la sua ragazza La vtuber L'atto di misconstruire La tua relazione con online media Per la personalità È sotto Essere sotto l'illusione Che sei in una relazione intima È chiamato parasocialità Sembra che ci sono molti incidenti Come il mio Mi ha detto di fare attenzione nel futuro Anche a me è successo Quindi sì Dopo l'incidente Mi sentivo Immensamente in debito con Rikia Per aiutarmi Quindi sono uscita di nuovo con lui Non ci credo Ho fatto good ending Oddio Non ci credo Vedi Vedi È Asuka? È Asuka? È Asuka? Dov'è la puttana di merda? Cosa c'è che non va? Sì però è creepy Ehi Stai sballando Eh Vabbè Non posso farci niente Dopo tutto quel casino Io no Guardami al mio fianco Vero? Sì però Sì Per sempre Monkey Strong Together Insieme Forti Per sempre Allora Prenderò dei fiori Dei fiori Dei fiori Ma anche noi abbiamo Ricordate quando alla porta Alla porta ci ha dato dei fiori No Aspettate un attimo Non vuol dire che mi dai fiori viola Ho bene il bagno Asuka Nina Mi dispiace per Se ho detto qualcosa Ho detto qualcosa Ho detto qualcosa che ti ha fatto star male Asuka Ma Se potresti almeno Vedere questo Ok Ok Punto 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 Sì è stessa cosa No ti prego No Erolex No non ci credo E non vedo Chi è? What? Ha fatto finta No dai Ma che plot twist Se avessi creduto in Asuka No Ma non è vero Ma non è vero No Ma ritrai da capo No 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 Quindi Lex Veramente ha pagato qualcuno Per far finta di essere uno stalker Per rimettersi con me No Non ci credo Non ci credo No ma non ci credo Veramente Ma è stato un genio Ma non Sì Ora fidiamoci di Asuka Allora Non ci credo Sì vediamo altri finali L'ex ha fatto tutto questo Per far sì che tu fossi venuta Alla sua show Non ci credo No ma dai raga Ma veramente Non chiamarla Che lascia le porte aperte Asuka è una doppia giochista Proviamo a fidarci di Asuka adesso Dai No però è bello No raga Che gioco è carino Non ci credo Però raga Che plot twist Cioè ok Effettivamente non ti puoi fidare di nessuno In questo gioco Però Pensare che va a pagare uno Per farlo stalker What the fuck Dite che è anche Asuka Guarda che non chiamava la polizia La poliziotta come fa a non essere sospetto Dai Boh Non lo so Proviamo tutti e due Oppure la manager C'è anche la manager Ma secondo me la manager Boh Non lo so E sapete è anche un po' brutto da dire Però non mi fido di lei Nemmeno perché è una donna Capito Cioè la donna non è che può Aiutarti più di tanto Cioè perché se dobbiamo Una donna contro un uomo Cioè secondo me Non Non È un po' inutile Non so cosa potrebbe fare Cioè È fottuta Praticamente Sì Contro lo stalker Non lo so Ah beh Se è una donna Il gigante roia Minchia è vero Magari quando lì c'entrava qualcosa Cosa Vabbè Schipiam Sesta roba Magari quella lì Che abbiamo visto Nel supermercato Arrivavola lì È easy Cioè Quella lì ok Però la manager Non mi sembrava Tanto cazzuta Stream Chiamata Adesso chiamiamo Asuka Adesso chiamiamo lei Bella ragazzi Aslovelly Aslovelly dice Comunque il gioco È fatto benissimo Perché fa di tutto Per farti dubitare Di Asuka Quando probabilmente È l'unica persona affidabile Sì ma C'è capito Io non so di chi fidarmi Cioè non saprei nemmeno io di chi fidarmi Asuka di Tec Però meno male che hanno messo la possibilità di rifare il gioco da partendo da qua e non da capo Meno male cazzo Almeno non puoi vedere gli altri finali senza guardarli da un video Devi giocarli tu ecco Oh mio dio Speed runniamo Oh mio dio però Mamma mia Io voglio proprio vedere di chi dovremmo fidarci Magari non ci dobbiamo fidare di nessuno Che è successo? La morale del gioco è che non ti devi fidare di nessuno Zema grazie E' il tuo preferito Mi fa piacere Grazie mille Gigi fuoco Ecco questo ci ha lasciato la porta aperta Non so com'è Sì vediamo se riusciamo a fare tutto Se non dura tantissimo Però chi è che ci registrava? Vabbè Lex Ok Cioè ok abbiamo saputo che è Lex Ora volete vedere che tutti quanti sono coinvolti in sta roba Cioè sono tutti pagati dall'ex L'Asuka è un attore pagato Pulizzo è un attore pagato Siamo in un Truman Show Stavificante Asuka Asuka Non risponde Asuka No la suoneria di Asuka Arriva dal balcone Ma dai Raga Ma sono tutti coinvolti L'appartamento accanto Che stai dicendo? No Non è possibile Perché dovrebbe essere qua il telefono di Asuka? Tutti comprati Guarda Nella stanza accanto Dove facciamo tutti quei lavori Non ci credo Tutte le foto mie Mamma mia Cioè ma Raga comunque se Ho paura Che farebbe una cosa così terribile? Cioè ma raga Ma pensate vivere una roba del genere Cioè come fai a fidarti più delle persone? Comunque cioè Tutte le persone di cui ti fidavi Cioè Fanno questo Ma tua migliore amica conoscevi da quanti anni? Lex What? Ciao Uranus Ma questo è il mio stesso bagno Asuka? No What? Oh La storica è la gigante delle mini mari Nina Cos'è questo posto? Non è che si è È complice comunque Cos'è questo posto? È la stanza accanto Il balcone era aperto Pant pant Ma sono felice Stai bene Nina Anyway What do you mean anyway? Non ti preoccupare Vai alla polizia È troppo più ricordo stare qui Velocemente Prima che ti... E dove? E dove devo andare Aspetta dove devo andare Scusami E qui dice sì In real Faccina sorridente Sì Ma questa cosa Che posto è? Ah la mia stanza Sì ma si apre pure da Porca pantana Cazzo Ma sta parlando al telefono? Ma loro erano due persone Raga Raga sono due persone C'è una entrata Nell'appartamento qua E l'altro era in casa mia Sono due persone Sono tutti Ma è vero che loro sono tutti? Non ci credo che è tutto Tutti L'on manager Tutti Non ci credo Siamo sull'Oriente Express Oddio La manager No chi è questa? La manager No non ci credo Dai Tutti quanti Oh Cosa c'è che non va? Perché sei qua tu? Perché sei di fretta? Non fa bene per una ragazza Camminare da sola La notte così Di nome lo dici? Ma è nella sua stanza Ok No Le voglio parlare Vabbè Hi J-Rex Thank you No Ma come scappa? Vai dalla polizia Sì ma Nina? Marameo 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 Che cazzo vuol dire sta frase? Sono tutti pagati Cosa vuol dire sta frase? Non possiamo andare di là Perché c'è la polizia lì raga? No voglio vedere cosa vuol dire Non in questo modo Ma è lì la polizia Perché non posso parlare a lui? È un co... Raga ve lo giuro che... No 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 Excuse me Qualcosa è successo? Perché lui era già qui? Ok stava facendo la pattuglia in realtà Però È pericoloso per una ragazza giovane Camminare da sola a casa A una notte I hear you out? Cosa? Ti ascolterò? Porca p***a Brobe Erano tutti... Non ci credo Erano tutti... Non ci credo Erano tutti... Attori pagati Il 16 la conferenza stampa Fatta dalla polizia No tutti quanti! E Asuka? Oggi quattro sospetti Siete arrestati per... E Asuka dov'è? Che sono? Rikia Rikiko Miyamoto La manager Il figlio Oddio era il figlio Il figlio Del figlio Il figlio Vedi, era un finto polizio... Cioè, era sospetto il poliziotto che vi parlava nel parco. No. Wow. Asuka... Io lo odiavo. Ok, no, però cazzo non l'ha scattato. È vero, ecco perché era lì. No, vabbè, raga, che plot twist. No, bello, minchia. What? Ma dimmi qualcosa. Ah. Sushi? No. Ecco perché poteva entrare quando gli pareva. Ma lei non lo conosceva la mamma del suo ragazzo. Eh boh, infatti. Quello è non lo so. Non me lo conosceva la mamma del mio appartamento, grazie, sembra delizio. Magari è anche Asuka, ma c'è il plot twist. L'ultima volta che ho fatto questo piatto, ragazzi, mi rifò lo Shizoku. Sembrava un po' passato distante. Quei ragazzi sembra che siano stati catturati. Sono felice. Ma chi l'avrebbe mai pensato? Eh, no, infatti. Io no. Che erano tutti complici. Nina, tutte le cose che hai dovuto passare, se solo l'avessi notato quanto era... Ah, vedi, effettivamente l'avevo detto. Magari non si rende conto di quanto è seria la situazione. Questo l'avevo detto anch'io, però... Qualcosa come questo potrebbe... Non sarebbe successo. Non è vero. Asuka, sei la ragione per il quale io sono qui. Grazie per metterlo in questo modo. Devi trasferirti. Yeah. Fai attenzione, non ripeto la stessa cosa. Che mi ricorda... Eh? Ho sentito che il nuovo developer ha riusciato un nuovo gioco. Non... Non hai detto che era troppo difficile per te il gioco? Ho sentito che il developer ha lasciato un nuovo gioco. Come si chiamava? Il convenience store! No, questo è sempre un loro gioco della Cillas. Che figo! The convenience store io non l'ho giocato. Io ho giocato The Closing Shift e basta. Ecco, Akamanto! Ecco dove l'avevo già sentito. Akamanto è proprio un gioco della Cillas. Infatti mi sa... Dove c'è tipo una donna rossa. Ah, oddio! Vabbè, sì, ok. Grazie per lo sponsor. Mite un potato. Get the true ending! Ah... Beh, raga, bello, bello. Bello. No, dai, bello, bello. No, è bello. Devo dire la verità. C infiegale. Guardate da dentro. Ho!